Nel corso degli anni, diversi avventurieri e amanti dell'adrenalina hanno tentato imprese ai limiti della legalità, per immortalare scenari mozzafiato, spesso sfidando le rigide normative di protezione del patrimonio culturale. Tra queste imprese, una delle più audaci è senza dubbio la scalata delle antiche piramidi d'Egitto, monumenti che da millenni vegliano sul deserto. Nel 2016 una di queste sfide estreme, venne intrapresa da un giovane fotografo polacco, Andrzej Ciesielski, che decise di immortalare l'Egitto da una prospettiva tanto unica, quanto proibita. Noto per le sue imprese estreme, si recò in Egitto per mettere in pratica un progetto fotografico davvero ambizioso, scalare uno dei monumenti più iconici e antichi al mondo, la Grande Piramide di Giza. La scalata delle piramidi è illegale, e severamente proibita dalle autorità egiziane, non solo per motivi di sicurezza, ma specialmente per la protezione del sito archeologico. Ciesielski riuscì a eludere la sorveglianza, e iniziò a salire sulla piramide, documentando l'impresa con una videocamera. La scalata richiese circa otto minuti, durante i quali raggiunse la sommità e immortalò una vista mozzafiato del deserto e della città circostante. Dopo aver catturato diverse immagini e video, iniziò la discesa, il tutto senza essere fermato dalle autorità sul momento. Dopo l'impresa, le immagini e i video furono pubblicati online, provocando reazioni contrastanti. Da un lato, molti appassionati di fotografia e avventura lodarono il coraggio e le abilità di Ciesielski. Dall'altro, le autorità egiziane e molti archeologi espressero sdegno per l'atto, definendolo irresponsabile e irrispettoso nei confronti di un patrimonio dell'umanità. Ciesielski fu fermato dalla polizia egiziana poco dopo la scalata, e rischiò un processo per aver violato le leggi di protezione dei beni egiziani. Tuttavia, fu successivamente rilasciato e tornò in patria, probabilmente a causa di pressioni diplomatiche. In Egitto, chiunque venga sorpreso a scalare la piramide di Giza, o altre piramidi, rischia conseguenze legali molto severe. Le leggi egiziane sono particolarmente rigide nel proteggere questi siti, considerati tra i più preziosi al mondo. In particolare, scalare le piramidi è illegale e può portare a diverse sanzioni. I rischi di chi si avventura in imprese del genere sono molteplici. Primo fra tutti l'arresto immediato, le forze di sicurezza e la polizia turistica presenti nell'area delle piramidi sono incaricate di sorvegliare il sito. Se colti sul fatto, gli scalatori vengono arrestati immediatamente e portati in custodia dalla polizia. La legge egiziana prevede pene detentive che possono variare. In alcuni casi, la detenzione può durare da alcune settimane fino a un massimo di otto anni, a seconda della gravità della violazione e della valutazione delle autorità giudiziarie. Oltre al rischio di detenzione, chi viola il divieto può essere soggetto a molte molto elevate. Queste possono raggiungere cifre considerevoli, poiché le autorità cercano di scoraggiare in modo netto qualsiasi comportamento, che metta a rischio l'integrità del sito archeologico. Nel caso di turisti stranieri, le autorità possono procedere con l'espulsione immediata dal paese, e con l'imposizione di un divieto di rientro in Egitto per un certo periodo, o in alcuni casi, in maniera permanente. Se l'atto della scalata dovesse causare danni al monumento, come il distacco di pietre o graffi sulla superficie, le pene possono aggravarsi ulteriormente, con un rischio maggiore di reclusione prolungata e in multe ancora più alte. L'atto di Ciesielski, solleva importanti domande etiche. Sebbene le immagini e i video catturati siano straordinari, e abbiano attirato l'attenzione globale, l'impresa ha infranto le regole destinate a proteggere un monumento fragile e unico. La piramide, essendo uno dei siti archeologici più antichi e preziosi al mondo, richiede infatti un alto grado di tutela per preservarla per le generazioni future. Grazie 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 Grazie